Il compito che mi è stato assaiato oggi è parlare un po' di marketing strategico e di competitività. Colgo la provocazione del professor Preti per allinearmi subito. In effetti è molto più importante decidere cosa fare perché poi come farlo si trova il modo. Ma cosa fare oggi, negli scenari di oggi, dei mercati di oggi non è immediatamente semplice e in effetti non tutte le imprese riescono e anzi continua una moria accelerata di imprese nel mercato perché gli imprenditori, i piccoli imprenditori italiani, parliamo della realtà italiana e magari la generazione 2, non riesce a cogliere i mutamenti importanti che stanno avvenendo nel mercato a tutti i livelli. E allora una delle leve che ha il marketing strategico all'interno delle aziende per guidare la competitività delle aziende, far sì che le aziende possano essere aziende di successo è quello di sapere, a mio avviso, interpretare i grandi fenomeni, i grandi cambiamenti, quello che sta succedendo, tutte le informazioni che riceviamo ogni giorno da migliaia di fonti e renderne degli strumenti utili per guidare l'azione in maniera decisa. In quale contesto stiamo operando? Ecco qua davanti mi sembro io delle volte quando devo capire dove devo andare a vendere i miei prodotti. In quale contesto operiamo? Operiamo in un contesto di crisi, punto di domanda. L'anno scorso ho presentato un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto a questo convegno. Oggi vorrei sentire un po' l'umore della sala e chiedere quanti di voi pensano che la crisi sia finita o stia per finire e quanti pensano che invece il peggio deve ancora venire. Quanti pensano che il peggio è passato? Sulla mano. Che ottimismo! Un ottimismo lampante. Quanti pensano che il peggio debba ancora venire? Tutti gli altri. Quanti pensa che questa crisi ha cambiato strutturalmente le cose, non tornerà mai come prima e non sappiamo ancora come sarà in futuro? Forse la maggioranza. È proprio così. Però dobbiamo leggere i dati che ci vengono dal mercato. I dati che ci vengono dal mercato ci parlano di un prodotto interno lordo a prezzi costanti a livello mondiale, che cresce del 3,7% nel 2016, la previsione. In Italia dopo tre anni, 2012, 2013, 2014, di declino del prodotto interno lordo, finalmente vediamo il segno marginalmente positivo nel 2015 e un po' meglio nel 2016. La nostra crescita è ancora meno di un terzo della crescita media mondiale, è la metà della crescita della Spagna, però va là. Dopo anni in cui il prodotto interno lordo si stava deteriorando, abbiamo ripreso marginalmente a crescere. I dati lo dicono tendenzialmente, i dati nel terzo trimestre del 2015, il PIL è aumentato, il 2% tendenzialmente dello 0,9% verso il 2014, la crescita quindi su base anno più o meno si attesterà sullo 0,6-0,7, la ripresa dei consumi si rafforza, nei primi nove mesi è stata pari allo 0,7%, quindi un più 1,1 sembra a livello globale. Il dato tendenziale dell'inflazione si mantiene basso, perché ovviamente i prodotti energetici, le materie prime contribuiscono a mantenere l'inflazione bassa e la disoccupazione finalmente, un po' per le manovre politiche, un po' per questa ripresina, sta diminuendo, sta iniziando a diminuire. Quindi anche questo sarebbe un altro segnale, idealmente positivo. E i nostri mercati come stanno andando? Questi sono i macro dati, le macro statistiche, ma i mercati dove noi operiamo come stanno andando? Intanto dobbiamo capire che dall'inizio della crisi, situiamola nel 2006, 2007, 2008 in avanti, i consumi alimentari sono calati del 17,4%, cioè il totale dei consumi alimentari è calato di quasi il 18%. Opla! Siamo in tanti in un mercato molto più competitivo che si sta restringendo, ancora di più che noi i prodotti di largo consumo che sono calati, fra virgolette, solo dell'11,5%. E se guardiamo, anche a livello dell'ultimo anno, tuttavia, nei settori del largo consumo, vediamo che l'alimentare e le bevande, le bevande soprattutto trascinate dall'estate calde, dai climi sempre più caldi, quindi le bevande evidentemente trascinano i consumi, mentre invece i prodotti della cura della persona e della casa ancora tendenzialmente soffrono un po'. Quindi anche questo dato ci dice che sta migliorando rispetto ad anni in cui diminuivano progressivamente i consumi e dell'alimentare e delle bevande. Nel settore in cui opero, che è quello del fresco, dei prodotti freschi, il mercato è rimasto tuttavia fermo. Io sono un imprenditore che opera nel settore del fresco, il prodotto interno lordo migliora, l'inflazione è stabile, la disoccupazione diminuisce, però dei miei prodotti, nell'ambito dei prodotti freschi, il consumo è flat, non aumenta. E vedete un po' per categorie perché parlo a colleghi che operano sicuramente in altre categorie, il settore più importante che è quello della carne diminuisce dell'1,4%, i formaggi dello 0,1%, latte e panna, meno 5,2% sono settori importanti di consumo a volume evidentemente. Il mio settore è quello dei salumi, aumenta dell'1,6% e vedete che nonostante la crisi è un settore comunque che ha un euro chilo, 17 euro medio chilo, molto alto, quindi non è strettamente correlato. E in più i dati delle statistiche ci dicono che è ripresa una certa inflazione nei consumi alimentari e in particolare c'è un'inflazione del carrello della spesa, che indica che il consumatore sta comprando più qualità, cioè l'inflazione del carrello è più alta dell'inflazione media del Paese. E anche questo è un altro dato da leggere e da interpretare. E i nostri consumatori? Ovviamente cerchiamo di capire dove vanno in questo scenario di crisi o di cambiamento. In effetti i nostri consumatori sono un po' tirati, da un lato polarizzano i loro consumi e vi dirò in un attimo come dal nostro punto di vista, dall'altro hanno introdotto delle discontinuità molto importanti nei modelli di consumo e stanno orientando le loro scelte in maniera sempre meno fedele alla marca e sempre meno fedele all'insegna presso cui vanno a comprare. Se qualche tempo fa nessuno diceva che andava al discount, ma in molti andavano al discount, oggi andare al discount è da persone intelligenti, quindi è cambiata proprio la percezione del consumatore rispetto alla modalità di acquisto e al post di acquisto. E di fronte a questi consumatori evidentemente il trade, che intermedia la nostra relazione con loro, cerca di attuare con delle strategie per trattenere il più possibile i consumatori e le vedremo tra un attimo. Innanzitutto quando parliamo di consumi polarizzati parliamo di tendenze molto marcate che oggi si hanno in tutti i settori del consumo, uno su tutti è quello del benessere e della salute, quindi si cerca di privilegiare il consumo di prodotti che percepiamo o che riteniamo o che sono effettivamente meno dannosi o benefici per la nostra salute e questo è un trend a doppia cifra che continua a spingere i consumi. Così come anche continua a prevalere il consumo di prodotti pronti, pronti per essere consumati, prodotti di gastronomia anche qualitativamente elevati, anche più costosi rispetto a un prodotto che mi preparo in casa. E poi c'è ancora la tendenza e la crescita dei consumi edonistici per il puro piacere, per il puro gusto di avere il consumo di quel prodotto. Le tendenze dicevo dei consumatori che fanno emergere un'attitudine diversa nei confronti del cibo sono molto marcate. Oggi i prodotti gluten free aumentano le loro vendite del 33%, i prodotti vegetariani del 66%, i prodotti a base soia del 25% e i prodotti biologici del 19%. Queste sono crescite veramente importanti. Tant'è che i retailer adattano la loro strategia e cambiano i lineari. Un lineare che era tutto di salumi, nel più grande ipermercato di Roma è stato diviso in due, per metà è salumi e per metà è prodotti vegetariani e vegani. E partono i volantini a tema, solo prodotti vegetariani, solo prodotti bio. E noi poveri dei salumi che facciamo? Andiamo avanti. Ovvio che lo stimolo al consumatore a cambiare prodotto, a cambiare brand, a cambiare negozio è molto alto e questo stimolo l'abbiamo in qualche modo incentivato, anche noi industria, assieme ai retailer, attuando su delle leve promozionali molto spinte. Ormai il dato che il 30% più o meno delle vendite sia costantemente fatta in promozione, a seconda delle categorie, a seconda dei periodi, a seconda dei momenti, ovviamente tutti noi vendiamo sempre in promozione o con uno o con l'altro o con l'altro, quindi possiamo dire che ormai la nostra baseline è la promozione, fondamentalmente. E tutto questo però ha ridotto la marginalità, ha eroso la marginalità e delle aziende e anche del trade. Quindi si è cercato, in maniera in mio avviso anche sbagliata, di attirare il consumatore, di trattenere il consumatore sul consumo di beni che non voleva più consumare in quel modo, attuando una leva, quella promozionale, quella del prezzo. Siccome mi compri meno, ti incentivo facendoti pagare di meno, ma io voglio altre cose e quindi non ti compro comunque. Erosione della marginalità e consumi che hanno continuato a calare in molte categorie. e poi viene lo scenario distributivo. Parlavo prima del trade, quindi dovendo fare delle scelte, evidentemente ci poniamo anche qua di fronte a uno scenario distributivo che per chi non è strettamente addetto alle vendite, al settore commerciale, in Italia è di una complicazione unica. Quando spiego la distribuzione italiana, i miei colleghi internazionali mi guardano come un marziano. Noi abbiamo dieci grandi centrali di acquisto, che sono qui rappresentate nella chart che vedete, da Coppe Sigma che rappresenta il 20% del mercato fino agli ultimi e più marginali. E ovviamente uno sarebbe contento se riuscisse a fare un contratto con dieci centrali di acquisto, dieci contratti e parto a vendere per tutta Italia. No, non è così, perché effettivamente se andiamo all'interno delle centrali, quello è solo il passaporto per accedere alla distribuzione. Poi dobbiamo evidentemente andare a trattare con i vari aderenti alle centrali di acquisto. Vedete la frammentazione in Italia, cioè i 20 clienti più importanti d'Italia, il primo il signor Caprotti con i suoi supermercati dalla S lunga, che rappresenta comunque solo l'11% della distribuzione nazionale. Dicevo, i primi 20 clienti di fatto non rappresentano che il 48%, in Francia i primi 5 fanno il 90%, 5, 5 contratti, chiuso, partiamo. In Italia no, è molto più complicato e quindi raggiungere il consumatore è molto più complicato, perché bisogna passare attraverso una strada molto molto complessa. Questa frammentazione oltretutto è ancora più evidente quando scendiamo al livello micro, cioè quando vogliamo andare a vendere a un consumatore di Sondrio, se non andiamo dall'affiliato di Agorà, che è una centrale a sua volta, non ci arriviamo. Così come anche se vogliamo vendere a Ragusa dobbiamo andare dall'affiliato di Despano. E quindi è tutto molto molto complesso, perché evidentemente i retailer sono diversi, le loro strategie sono diverse e questa frammentazione, questa tipicità, questo particolarismo che è tipico dell'Italia e che è molto sentito rende molto difficile poter stabilire delle strategie massive, delle strategie unitari, delle strategie da multinazionale, come direbbe il professor Preti. E non parliamo dei negozi tradizionali, qua ne abbiamo oltre 60.000 di negozi tradizionali, quindi come raggiungerli ognuno in una città, in una provincia, in un comune, è effettivamente di una complicazione, ma non dimentichiamo che comunque ancora il 40%, 35% del consumo passa attraverso i negozi tradizionali, passa attraverso la ristorazione commerciale, passa attraverso i bar, passa attraverso i ristoranti, quindi sono punti vendita comunque da andare a toccare. E allora in questo contesto è possibile crescere in questo scenario così complesso? I miei azionisti sono messicani, credo che i vostri azionisti saranno in gran parte italiani o tedeschi, ma penso che non faccia differenza quando mi siedo davanti a loro a discutere che cosa facciamo per quest'anno. La domanda che hanno tutti è, devi crescere, di quanto cresci quest'anno. E quindi io racconto tutte le mie storie dell'Italia, di come siamo tipici particolari, belli e pettinati, però vogliono sapere di quanto cresciamo. I fatturati e soprattutto i profitti, perché gli azionisti, professore, guardano ancora e sempre solo al profitto. E noi dobbiamo farglielo fare questo profitto. E allora sembra una banalità, però per crescere e per dare un risultato di crescita bisogna avere la crescita al centro della propria agenda. Sembra una banalità, però uno può pensare di fare impresa in mille modi, ma se non ha la crescita, cosa devo fare per crescere i miei fatturati e i miei profitti, può fare tante cose, può giocare bene la partita, ma se non ce l'ha come focus principale della propria attività dalla mattina alla sera, difficilmente la crescita può venire. E quindi per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la mia azienda, nel momento in cui sono entrato e ho avuto questa missione di portare l'azienda a uscire da una situazione di crisi per entrare in una situazione virtuosa e di crescita, mi sono messo la crescita nell'agenda. Ovviamente le nostre aziende negli anni della crisi si sono modificate profondamente e anche prima, perché hanno cercato di tenere la marginalità e hanno pensato forse in un certo modo anche di aumentare la marginalità, facendo delle cose che però hanno fatto tutti. Si è investito in tecnologia, si è investito in automazione rispetto alla forza lavoro, si è pensato che era meglio terziarizzare intere aree produttive, i fine linee, i confezionamenti, abbiamo fatto entrare le cooperative perché il costo del lavoro era più basso, abbiamo esternalizzato i servizi, abbiamo cominciato con le donne delle pulizie, poi la sicurezza, poi la logistica, poi l'IT, poi la contabilità, in alcuni casi estremi. Quindi alla fine abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo sulla fase di ciclo passivo della nostra azienda per ridurre i costi, ridurre i costi, ridurre i costi, ma tutto questo a mio avviso non abbiamo fatto la differenza un'azienda dall'altra. Cioè chi non ha fatto la differenza, chi non si è adattato, è uscito dal mercato, perché tutti sono stati obbligati a rincorrere la massima efficienza e quindi quello non è stato un carattere distintivo delle aziende, perché finalmente un po' tutti potevano mettere in campo le stesse cose, tutti hanno fatto più o meno le stesse cose, quelle che hanno avuto la visione, la tempestività e la prontezza di farlo. Abbiamo, parlo anche ai manager dentro le aziende, abbiamo proprio spaccato al millesimo il costo di manufacturing. Oggi sappiamo al terzo decimale quanto ci costa produrre un chilo di salame, benissimo. Abbiamo ridotto le strutture centrali all'osso, abbiamo limitato il più possibile tutto, ma non ci siamo resi conto, o magari sì, o non so quanta attenzione abbiamo dato nello stesso tempo al fatto che le contropartite commerciali che stavamo trasferendo al trade sono aumentate di 5, 6, 8, 10 negli ultimi anni, 20 punti, siamo passati dai 30 punti di contratto ai 50 punti di contratto che oggi li conosciamo al trade. Cioè abbiamo tagliato i nostri fatturati così, nel frattempo che cercavamo di scolpire i costi. Quindi effettivamente nel mio modo di interpretare l'agenda per la crescita, al di là dell'attenzione ai costi che è un must ma non fa la differenza, l'unica cosa per far crescere il profitto, sembra banale, ma è crescere i fatturati o cambiare i nostri mix. E qui entro già in un concetto molto più gestionale. Ovviamente il tema della crescita delle imprese è così anche per la mia. Della crescita della mia impresa il 50% è responsabile dell'esportazione, l'internazionalizzazione dei prodotti e dei mercati su cui vendiamo i nostri prodotti. Un altro 35% viene dalla innovazione pura di prodotto. E anche qui quando parliamo di innovazione alimentare mi collego alle parole del professor Preti. Per noi innovazione è stato riprendere un concetto che sembrava primordiale. Produciamo salumi e vogliamo dire che sono 100% di carne italiana. Perché ci siamo dimenticati che nel frattempo le carni arrivano da tutta Europa, se non da tutto il mondo e il consumatore non sa più quello che mangia. E consumando di meno vuole sapere di più quello che mangia. Vuole conoscere da dove arrivano i prodotti, vuole conoscere la tracciabilità del prodotto, vuole conoscere la qualità fondamentalmente di quello che mangia. Avendo già deciso di mangiarne comunque meno. Quindi diciamo non entro nel tema stretto della crescita del fatturato che viene attraverso l'esportazione, l'innovazione è un tema ampio, dibattuto, già dibattuto. E comunque rimane la leva principale su cui far crescere le nostre aziende. Ma c'è anche un aspetto molto della quotidianità, molto del lavoro di tutti i giorni delle imprese, anche delle piccole e medie imprese, credo che lavorano in Italia, che è il lavoro sulla profittabilità, sulla profittabilità delle vendite nel nostro mercato, che rimane secondo me la priorità numero uno del marketing e del marketing strategico nella gestione quotidiana delle nostre aziende. Quando sono arrivato in Fiorucci, nel 2013, mi sono chiesto una domanda molto semplice. Ma abbiamo 200 milioni di euro di milioni di fatturati in Italia, 100 milioni di fatturati negli Stati Uniti, 60 in Europa, ma 850 referenze. Ma veramente quali sono i prodotti che fanno guadagnare o perdere la mia azienda? E mi sono trovato, perché l'ho chiesto, ovviamente prontamente, me l'hanno dato, prontamente, dopo un po' di tempo, perché non è così banale. E se chiedessi a voi, nelle vostre aziende, quali sono i prodotti che fanno guadagnare, quelli che fanno perdere, forse me lo direste, forse dovreste fare qualche calcolo, dovreste chiamare qualcuno per farvelo dire? Non lo so. Io ho trovato questo, che per molti all'interno delle aziende è risultato una sorpresa. Il risultato è che avevamo prodotti, questa è una classificazione fatta per margine di contribuzione e volume di vendita, come vedete, e quindi a volumi bassi, medi o alti, a seconda delle categorie dei prodotti, ovviamente definiti secondo i volumi che vendevamo, corrispondevano marginalità negative, leggermente positive, sotto la media, superiore alla media e molto superiore alla media dell'azienda e abbiamo iniziato da lì, abbiamo iniziato da lì, cominciamo a guardare in faccia la nostra realtà e vediamo cosa possiamo fare e quindi abbiamo deciso, per esempio su alcune referenze, quelle che sono nel quadrantino in basso tutto rosso, quelle 33, abbiamo deciso che forse non valeva proprio la pena continuare a produrla e l'abbiamo eliminata, basta. Su altre abbiamo detto che forse valeva la pena di fare uno sforzo di riformulazione, riformulazione del packaging, downsizing del formato, per dare una possibilità e cercare di portarli nell'area più o meno in linea con la realità dell'azienda, ma su altre che vendevano poco ma avevano una marginalità molto alta, abbiamo fatto delle politiche attive di sviluppo, incrociando tutti i dati che avevamo detto prima. Guardate che vi sembrerà banale, ma fate questo esercizio nelle vostre aziende e troverete forse delle sorprese, io ne ho trovate e molti miei collaboratori si sono stupiti in questo esercizio di trovare delle realtà che davano in realtà per consolidate e così non era. Ovviamente poi per crescere la marginalità e per crescere le vendite, avendo dei budget limitati, un'altra scelta fondamentale è anche decidere dove investire. possiamo investire su tutti, i clienti per esempio, o dobbiamo investire solo su qualcuno. Ovviamente con un'Italia così frammentata, a seconda che vogliamo crescere nel nord-ovest, nel nord-est, nel centro o nel sud, gli interlocutori sono diversi e gli approcci sono diversi e quindi la proposta commerciale è necessariamente diversa. Qui c'è l'esempio per esempio del nord-ovest, se vogliamo investire nel nord-ovest, in Piemonte dobbiamo andare sicuramente da Dimar, che appartiene al gruppo Selex, dobbiamo andare sicuramente da Carrefour e da Esselunga, ma se vogliamo crescere in Lombardia non possiamo che andare da Esselunga, che rappresenta da solo il 30% delle vendite e Selex già non appartiene al novero dei clienti principali della Lombardia. Ma se vogliamo andare a vedere ancora all'interno delle regioni le dinamiche dei nostri clienti, perché anche questo i big data ci danno, noi sappiamo esattamente i nostri clienti come stanno andando, al di là di come andiamo noi con loro, loro stanno andando meglio o peggio. E quindi anche lì scegliere di fare una scommessa su chi sta andando male è una scelta azzardata. Scegliere di scommettere su chi sta andando bene ha un costo. Evidentemente tutto questo è da calibrare e da mixare in una serie di analisi che noi evidentemente abbiamo fatto e stiamo facendo continuamente. E poi ancora di più, quali sono le rotazioni per punto di ponderate nelle diverse aree di vendita? Possiamo portare i nostri casi migliori all'attenzione di altri clienti per far sì che acquistino i nostri prodotti? Qual è il livello di pressione promozionale corretta? Qual è la profondità della pressione promozionale che massimizza il ritorno sull'investimento per noi e anche per il retailer? Qual è l'indice di sfruttamento del mercato? Stiamo sfruttando al massimo il mercato con le sue potenzialità o no? Dove abbiamo dei margini di miglioramento per sfruttare la potenzialità di alcuni retailer che non stiamo sfruttando? E ancora, vado avanti con degli esempi, qual è l'andamento della nostra quota nei retailer che trattano i nostri prodotti? Qual è il rapporto tra le vendite non in promozione e le vendite in promozione? Qual è il differenziale verso i concorrenti? Facciamo guadagnare di più dei nostri concorrenti, retailer o no? Perché se riusciamo a farli guadagnare di più, evidentemente venderanno di più del nostro prodotto. Qual è il potenziale delle mie vendite in una determinata area su un determinato cliente, data la concorrenza? Ora, sono analisi abbastanza fini, abbastanza sofisticate, però tutto questo è entrato d'amblè, di botto, nella nostra analisi e nella nostra agenda per la crescita. Perché con risorse economiche scarse, come vi dicevo prima, effettivamente con tutte le informazioni che abbiamo a disposizione dobbiamo decidere ogni giorno cosa fare per dare questa crescita che ci viene chiesta. Un anno fa abbiamo lanciato questa sfida a chi si occupa di sistemi informativi e ci siamo chiesti sinfoando vera su questo aspetto. Perché effettivamente c'è una necessità all'interno delle aziende e qui entriamo non sul cosa fare, che al limite lo sappiamo quella strategia, ma sul come farlo. E su questo aspetto un aiuto ci serve e ci serve come. E allora abbiamo deciso di mettere un po' in comune le esperienze e i bisogni di chi fa impresa sul largo consumo e di chi fa sistemi per le aziende, soprattutto il largo consumo, per cercare delle soluzioni. E secondo me la sfida è questa qua, Rosolino, Paolo, la sfida è questa qua, dobbiamo addomesticare assolutamente i dati, renderli lavorabili, una conoscenza, un patrimonio di conoscenza fruibile. Creare degli strumenti che non possono che essere sofisticati, ma dobbiamo renderli semplici, perché la realtà che è complessa deve essere resa accessibile. E questa è la sfida che abbiamo davanti per garantirci la crescita che stiamo cercando. E qua finisco lasciandovi con un pensiero che ho fatto anche mio nella mia filosofia di approccio alle cose. Non sono le cose che non conosciamo che ci mettono nei guai, ma quelle che conosciamo e che diamo per scontato e non lo sono. Grazie.